Numerosa la presenza di pubblico al VII Congresso Provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia, SAP, uno dei maggiori in Piemonte in Italia. Svolto a Palazzo Lascaris, l'incontro è stato dedicato al tema meno risorse alle forze di polizia, meno sicurezza per i cittadini. A conclusione degli interventi, la votazione ha portato alla riconferma di Silverio Sabino come segretario provinciale del SAP di Torino.